Ti mando tutti i dettagli. Vado a controllare. Grazie Genki. L'ora scarlatta sta per cominciare. Nido di simpiunte. Controlliamo. Diamo una bella ripulita. Forza! Fate le persone da salvare! No! 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 Oh no! Un altro piccolo sforzo! Un altro nido! Sarà un bel frastuono! Forza! Ho delle persone da salvare! Un altro piccolo sforzo! Un altro piccolo sforzo! Un altro piccolo sforzo! Un altro piccolo sforzo! bene. Devo dirglielo. Non è troppo tardi. L'avviserò appena lo sento, signor Osborn. Ok. Ti ringrazio, Peter. Un nido. L'ultimo è stato orribile. Non finiscono mai. Mancano pochi secondi. Non finiscono mai. Era ora. Un nido con due cuori. Giusto per raddoppiare l'orrore. Diamo una bella ripulita. Forza! Ho delle persone da salvare! Forza! Forza! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Un altro piccolo sforzo! Un altro piccolo sforzo! Un nido. L'ultimo è stato orribile. Due cuori di nuovo. Tieni duro, Pete. Ok, facciamo rumore. Non finiscono mai! Un ucciso! Grazie a tutti. 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 Ok. Un bel respiro. Sono pronto. Forza! Ho delle persone da salvare! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non finiscono mai! Un altro! Un altro! Un piccolo sforzo! Grazie a tutti. Ci hanno assaliti mentre cercavamo di portare al sicuro le opere. Le opere d'arte sono preziosi, ma meno della vostra vita. Mettetevi in salvo. È stata più lunga del previsto. la nostra parte di un po' di noi. E' la catastrofe, ma... se quello è un nido devo intervenire. Dov'è il cuore di questo nome? Devo spostare quell'auto. Esplosione sonica pronta. Io, quasi punto. Devo spostare quell'auto. Devo spostare quell'auto. Devo spostare. Devo spostare quell'auto. Non mi arrendo! Era ora. Un altro nido. Quei cosi li detesto. Bel frastuono. Cavolo, per cosa sono forti? Un altro nido. 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 Grazie a tutti. Ci siamo quasi! Concentratevi! È fatta! Grazie, Spidey. Di niente. Resta in palestra finché la via non è libera. Un altro nido. Come se non fossero abbastanza inquietanti. Resta in palestra finché la via non è libera. Tienili lontani dal cuore! Si è mosso di nuovo! Eccolo che si muove di nuovo! È sul tetto, a quanto pare! Sincronizzazione imminente! Sincronizzazione imminente! Grazie! Grazie! È stato... Grazie! Ora sei salva. Fa un bel respiro. E quando sei pronta, torna dentro! Un nido. L'ultimo è stato orribile. Ehi là! C'è nessuno? Questo... Era il covo di Black Cat. Diamo una bella ripulita. Non devono avvicinarsi! Non devono avvicinarsi! Ma sono!!!! Così... Cosa una bella applicants! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.